Il distretto sanitario 70 Vallo della Lucania Agropoli senza organi direttivi da due anni. Il presidente della comunità montana Bussento Lambremingardo, Vincenzo Speranza, chiede a gran voce la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci per risolvere la questione e affrontare con più decisione l'organizzazione della campagna vaccinale che sta mostrando delle criticità. Sono due mesi, ha detto Speranza, che prima verbalmente e poi attraverso PEC sto sollecitando il sindaco di Agropoli alla convocazione dell'Assemblea. La campagna vaccinale sta viaggiando con ritardo sul territorio. A Sapri organizzano Open Day nei singoli comuni, azzerando le file e rendendo la campagna più capillare. Nel distretto di Vallo questo non sta avvenendo. Se avessimo avuto il Comitato dei Sindaci avremmo potuto affrontare meglio questo momento. La questione è infatti legata all'assenza del presidente del Comitato dei Sindaci del distretto, una situazione che perdura da due anni, dal 2019 per la precisione, da quando cioè lo storico presidente Andrea Salati non si è ricandidato alle elezioni come sindaco di Gioi e dunque ha lasciato vacante il posto in seno all'Assemblea. Secondo quanto previsto dalla normativa, ora a convocare l'Assemblea per eleggere gli organi dovrebbe essere il sindaco del comune più popoloso in assenza di presidente, quindi Agropoli. Speranza perciò ha sollecitato più volte il sindaco Coppola e lo scorso 4 dicembre si è rivolto anche a tutti i sindaci chiedendo loro di attivarsi per l'elezione degli organi rappresentativi in modo da avviare una serie attività di programmazione dell'offerta sanitaria sul territorio. La norma stabilisce anche che a convocare l'Assemblea possa essere il sindaco della città dove assede il distretto, quindi anche il primo cittadino di Vallo della Lucania, Sansone, a cui ora si sono dirette le sollecitazioni. Per il momento però non c'è stata ancora alcuna convocazione. Il sindaco di Agropoli, Coppola, ha espresso la sua disponibilità ma ha preso tempo. Credo sia opportuno coordinarsi prima tra noi, ha detto. Affronteremo la questione dopo le festività natalizie.